Questo museo che cosa ti ha fatto provare? Sono parecchio contento di aver rivisto la SZ che l'ultima che avevo visto era 5 anni fa a Stresa di un privato e anche la RZ mai vista dal vivo e anche contento di aver visto la Montral che anche quella lì non si trova mai in giro Sì, sono pezzi che in giro per strada non si trovano quindi sono contento di vederle perché mi piacerebbe vederle in giro per strada ma queste cose non si trovano